No, non fu neutrale, basta leggere il Magnificat per rendersi conto che Maria si è schierata, ha preso posizione, cioè dalla parte dei poveri naturalmente, degli umiliati e offesi di tutti i tempi, dei discriminati dalla cattiveria umana e degli esclusi dalla forza del destino, di tutti colori, insomma, che non contano nulla davanti agli occhi della storia. Non mi va di avallare certe interpretazioni che favoriscono una lettura puramente politica del Magnificat, quasi fosse nella lotta continua tra oppressi e oppressori una specie di marsigliese anteliteram del fronte cristiano di liberazione. Significherebbe ridurre di grano e lunga gli orizzonti dei sentimenti di Maria, che ha cantato liberazioni più profonde e durature di quelle provocate dalle semplici rivolte sociali. I suoi accenti profetici, pur includendole, vanno oltre le rivendicazioni di una giustizia terrena e scuotono l'assetto di ben più radicali iniquità. Sta di fatto, però, che sul piano storico Maria ha fatto una precisa scelta di campo. Si è messa dalla parte dei vinti. Ha deciso di giocare con la squadra che perde. Ha scelto di agitare come bandiera gli stracci dei miserabili e non di impugnare lucidi gagliardetti dei dominatori. Si è arruolata, per così dire, nell'esercito dei poveri, ma senza rateare le armi contro i ricchi, bensì invitandoli alla diserzione, entonando di fronte ai bivacchi notturni del suo accampamento, perché le udissero dall'alto canzoni cariche di nostalgia. Ha esaltato così la misericordia di Dio e ci ha rivelato che è partigiano anche lui, visto che prende le difese degli umili e disperde i superbi nei pensieri del loro cuore. Stende il suo braccio a favore dei deboli e fa rotolare i violenti dei loro piedistalli, con le ossa in frantumi. Ricolma di bene gli affamati e si diverte a rimandare i possidenti con un pugno di mosche in mano e con un palmo di naso in fronte. Qualcuno forse troverà discriminatorio questo discorso e si chiederà come possa conciliarsi la collocazione di Maria dalla parte dei poveri con l'universalità del suo amore e con la sua riconosciuta tenerezza per i peccatori, di cui i superbi, i prepotenti e i senza cuore sono la razza più inquietante. La risposta non è semplice, ma diventa chiara se si riflette che Maria non è come certe madri, che per amor di quieto vivere danno ragione a tutti e pur di non creare problemi finiscono con la secondaria i soprusi dei figli più discoli. No, lei prende posizione, senza amiguità e senza mezze misure. La parte però su cui sceglie di attestarsi non è il fortilizio delle rivendicazioni di classe e neppure la trincea degli interessi di un gruppo, ma è il terreno, l'unico, dove lei spera che un giorno, ricomposti i conflitti, tutti i suoi figli, ex oppressi ed ex oppressori, ridiventati fratelli, possano trovare finalmente la loro liberazione. Santa Maria, donna di parte, come siamo distanti dalla tua logica. Tu ti sei fidata di Dio e come Lui hai scommesso tutto sui poveri, affiangandoti a loro e facendo della povertà l'indicatore più chiaro del tuo abbandono totale in Lui, il quale ha scelto ciò che nel mondo è storto per confondere i sapienti, ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono. Noi, invece, andiamo più sul sicuro, non ce la sentiamo di rischiare, ci vogliamo garantire dagli imprevisti, sarà pure giusto lo stile aleatorio del Signore. Ma intanto preferiamo la praticità terra terra dei nostri programmi, sicché, pur declamando con la bocca i paradossi di Dio, continuiamo a fare assegnamento sulla forza e sul prestigio, sul denaro e sull'astuzia, sul successo e sul potere. Quando ci decideremo, sul tuo esempio, a fare scelte umanamente perdenti, nella convinzione che solo passando dalla tua sponda potremmo redimerci e redimere? Santa Maria, donna di parte, tienici lontani dalla tentazione di servire a due padroni, obbligaci a uscire allo scoperto, non farci essere così incauti da voler sperimentare impossibili conciliazioni degli opposti. Preservaci dal sacrilegio di legittimare, per un malinteso senso dell'universalità cristiana, le violenze consumate a danno degli oppressi, quando, per non dispiacere ai potenti o per paura di alienarci nei favori, pratichiamo sconti sul prezzo della verità, coprici il volto di rossore, liberaci dall'indifferenza di fronte alle ingiustizie e a chi le compie, ma donaci la tolleranza, che è un'attitudine sperimentabile, solo se si sta dalla parte dove ti sei messa tu. Perché in fondo anche noi siamo di parte, ma i recinti che ci racchiudono, trasudano scomuniche, sanno disetta, sono privi di attese e non hanno profumi di liberazione imminenti. Santa Maria, donna di parte, noi ti preghiamo per la Chiesa di Dio, che a differenza di te fa ancora tanta fatica ad allinearsi coraggiosamente con i poveri. In teoria, essa dichiara l'opzione preferenziale in loro favore, ma in pratica rimane spesso seduta dalle manovre accaparratrici dei potenti. Nelle formulazioni dei suoi progetti pastorali decide di partire dagli ultimi, ma nei percorsi concreti dei suoi itinerari si mantiene prudenzialmente al coperto, andando a braccetto coi primi. Aiutala a uscire dalla sua pavida neutralità. Dalle la fierezza di riscoprirsi coscienza critica delle strutture di peccato che schiacciano gli indifesi e respingono a quote subumane i due terzi del mondo. Ispira le accendi di fiducia e mettile sulle labbra le cadenze evversive del Magnificat, di cui talvolta sembra che abbia smarrito gli accordi. Solo così potrà dare testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, e gli uomini si apriranno ancora una volta alla speranza di un mondo nuovo, come avvenne quel giorno di duemila anni fa sui monti di Giuda.